All'Istituto Francese Grenoble di Napoli si è tutta oggi l'edizione 2023 di un evento che premia la pubblicità. E' andata in scena al Consolato Francese a Napoli, all'Istituto Grenoble in Via Crispi, la serata finale di Open Art Award 2023, premio alla pubblicità giunto alla sua nona edizione. Il concorso internazionale è rivolto alle aziende nazionali e di oltre confine che si sono distinte nel settore della comunicazione e del marketing. L'iniziativa nasce grazie agli sporti di Open Art, istituto che da oltre un ventennio si occupa di formare i giovani nell'ambito della pubblicità e della grafica. Open Art Award è l'unico premio in Italia nel settore ad avere una valenza istituzionale. Negli anni infatti il premio ha ottenuto i patrocini della Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministerio dello Sviluppo Economico, Regione Campania, Comune di Napoli e della Camera di Commercio. Siamo una scuola di comunicazione e marketing, da oltre vent'anni abbiamo addestrato un sacco di studi di allievi a diventare professionisti del settore e da una decina d'anni organizziamo questo premio per dare comunque uno strumento in più ai nostri studenti. In pratica le agenzie pubblicitarie di tutta Italia, anche d'Europa, anche stasera erano presenti agenzie straniere, vengono votate dai nostri studenti in qualità di giurato. La peculiarità dell'iniziativa è che sono stati proprio i giovani allievi a svolgere il ruolo di giurati. Gli allievi hanno avuto così l'incredibile opportunità di osservare, analizzare e toccare con mano il lavoro dei grandi professionisti della grafica e della pubblicità. Sono i giovani grafici di oggi, saranno i grafici di domani, per cui chi meglio di loro può con la spontaneità farci capire verso cosa sta andando la pubblicità, verso cosa dove ci stiamo indirizzando. Quindi questo è un aspetto davvero prezioso secondo me, sia per il premio sia per Napoli che comunque è sempre in fermento da questo punto di vista.